concorso cavallo di troia cioè dentro i cinque posti sono come il cavallo di ulisse dentro cui ce n'è 100 sì ma la troia diciamo potrebbe essere una o due scusatemi ecco il cavallo di troia potrebbe essere uno due qui siamo arrivati a 107 quindi c'è un camion di una vagonata di questo vuoi spiegare al di là di l'irrata